Lo sport in collaborazione con Dai più valore alla tua casa Scegli Pegaso I veri mobili artigianali venditi in legno massiccio Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati All'interno del punto vendita Pegaso Sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria Visita il sito pegasomobili.it L'Alessandria Calcio si prepara alla ripresa delle gare ufficiali di campionato Prossimo match in casa, domenica, contro la propria Cenza Intanto continua la campagna acquisti Ci sono due esigenze, un attaccante e un terzino sinistro Uno di questi molto probabilmente arriverà prima della sfida di domenica Lo ha dichiarato il direttore sportivo Cerri Senza specificare quale dei due Quattro le partenze, Gozzi e Bellomo Il primo la Provercelli, il secondo dovrebbe chiudere entro mercoledì con la Salernitana E imminente anche la chiusura della Salernitana con Casa Sola C'è poi il pastore che ha ricevuto diverse richieste Ma sentiamo direttamente dal direttore sportivo Cerri Ci sono delle trattative in essere Il procuratore ha confermato che c'è una squadra di serie B che sta avanzando Una trattativa importante e concreta E quindi attendiamo un paio di giorni In questa Salernitana c'era stato anche in Brescia Adesso in Brescia dovrebbe ricominciare a fare il calcato Non so se poi tornerà la carica Alla trattativa stiamo valutando un attaccante Un attaccante che può essere o un under o un over Quindi se andrà via Bonino come sembra Perché noi non è che non siamo contenti di Bonino Stiamo cercando un attaccante con caratteristiche diverse Più simili a Marconi Pegaso sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria Visita il sito pegasomobili.it Il meteo in collaborazione con Gollo Serramenti Produzione e vendita finestra in PVC Legno, alluminio Persiane in alluminio e blindate E per tutto il 2018 Ti garantiamo un risparmio del 65% Vuoi sapere come? 0143 88 29 13 Aria Acqua Vento Freddo Lascia fuori le intemperie e i malintenzionati Proteggi la tua casa con gli infissi di Gollo Serramenti Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie.